ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale in un mio nuovo video è uscito burda giovane easy autunno 2019 sono troppo contenta perché è uno dei miei giornali preferiti io solitamente il burda non lo compro tutti i mesi ma burda giovane easy lo comprerò sempre perché mi piace moltissimo ha pochi capi ben spiegati con la scuola di cucito adatti anche per chi sta iniziando a cucire questi sono tutti i modelli che troviamo in questo numero uno più bello dell'altro ma andiamo a vederli nel dettaglio guardate questa giacchetta realizzata in jeans con i volant questa invece in una versione senza maniche guardate la bellezza troppo bellino anche l'idea nel volant nel braccio e il volant nell'orlo della della giacchetta la vediamo in una versione di un tessuto diverso con dei profili a contrasto che le mettono in evidenza le taschine e i profili e via dicendo questi sono i modelli il gilet la giacca in velluta coste e la giacca di jeans con rush questi i figurini colorato e spiritoso conquista anche le più seriose aggiungi dei cristalli colorati sui bordi delle tasche e intorno allo scollo un tocco di ispirazione etnica per un look divertente un modello perfetto per le giornate fresche quindi lo stesso modello è stato realizzato in tre modelli diversi e tessuti diversi qui abbiamo tutta la scuola di cucito come vedete passo passo per la realizzazione della giacca come si attacca il collo come si attaccano le maniche queste bluse bluse chic che io adoro appena le ho viste aperte il giornale sono rimasta veramente compiaciuta sono molto carine perché a me sapete piace molto il romantico mi guardate che carine una la troviamo in un modello senza maniche mentre le altre il modello con le maniche con un elastico e va a stringere nella nel braccio tutto quello che avola io lo adoro quindi questo maxi volan cattura come dice qui l'attenzione completa il look con un paio di sneakers per uno stile o casual oppure con sandali per le occasioni eleganti quindi può essere utilizzato a seconda di come voi lo abbinate questo caso in abbinamento casual quindi sportivo ma lo potrete abbinare per esempio con una donna matita una gonnellina romantica con delle scarpe con il tacco è subito diventa un capo per la sera a me piacciono tantissimo questi capi che hanno una doppia vita cioè possono essere utilizzati sia per il giorno e per la sera a seconda di come voi abbiniate gli accessori e utilizzate degli outfit diversi in lungo il modello è lo stesso però in questo caso è un vestitino questo starà benissimo anche a chi ha al fisico a crescita perché abbiamo la cintura in vita e anche a chi ha un fisico a pera sempre perché il cinturino in vita e inoltre ha dato anche il fisico al rettangolo se la lasciate bella dritta mi ha dato tutti i tipi di fisici diciamo non lo consiglierei a chi ha un fisico a mela quindi come vedete basterà solamente allungare una maglietta e ci troviamo di fronte ad un vestitino la magia del cucito io la potrei chiamare in questo caso ci troviamo invece come abbiamo visto prima una stesso modello con il volant leggermente più corto e le maniche le maniche lunghe arricciatura e volant in doppio strato quindi il volant è più piccolo c'è uno grande anche se qua non si vede ma dopo lo vediamo è uno grande e uno più piccolino per l'ufficio puoi sostituire i jeans con una gonna tubino e gli stivaletti con un paio di decollet 3 chic assolutamente d'accordo quindi anche questo è un capo che possiamo realizzare in vari tessuti tra l'altro questo è un tessuto leggero utilizzate sempre dei tessuti abbastanza leggeri ecco qui i modelli la blusa l'abito e la blusa maniche lunghe qua vediamo i figurini come vedete questo al doppio volant quindi a lunghezza varia a seconda della posizione dello scollo spalle scoperte o spalle coperte la lunghezza dal punto vita queste 58 cm ovviamente se voi siete più alte o la volete leggermente più lunga potete accorciarla o chiaramente allungarla a seconda delle vostre esigenze anche questo la lunghezza che varia a seconda della posizione dello scollo spalle scoperte o spalle coperte qui abbiamo tutte le spiegazioni la realizzazione sempre la stessa quello che varia sono le maniche quindi o gli incavi manica nel caso in cui non vogliamo mettere le maniche oppure le maniche l'attaccatura delle maniche i volant superiore delle maglie romantiche o casual dipende dal nostro stile come vedete questa è una maglia abbastanza semplice le maniche lunghe e neanche tanto elasticizzata rimane morbida mentre qui vedete che il già la maglia cambia che ha un volant al fondo stessa maglietta diversa resa guardate che carina questa felpa abbinata anche col capellino più sofisticato che possiamo utilizzare anche per un aperitivo per la sera per andare fuori a cena o a mangiare una una pizza perché è più elegantino essendo stata realizzata in vellutino questi sono i modelli della shirt dello shirt collo alto e shirt con volant qua possiamo vedere i figurini il collo alto è un collo molto morbido in questo caso ma se volete potete fare un collo anche abbastanza sostenuto quindi vi farà caldo durante l'inverno che sta per arrivare la particolarità sono le maniche sono ampie mani con arricciatura ai polsi e di giorno lo puoi abbinare jeans o un paio di mocassini grazie al prezioso velluto di una tonalità di rosso intenso anche adatto per la sera la shirt a maniche lunghe non può assolutamente mancare nel suo guardaroba dell'inverno in questo caso è stata scelta una fantasia molto colorata ma potremmo farlo anche in tinta unita e cercare insomma delle fantasie anche più piccole a seconda della vostra del vostro gusto del vostro stile anche delle vostre forma del corpo in modo tale da valorizzare il più possibile le vostre forme per ultimo abbiamo questa felpina che a me piace tantissimo ed è quasi un jolly per la stagione fredda versatile e adatta per mille occasioni eccolo il volana arricciato e applicato all'orlo regala movimento alla linea dallo scollo rotondo può anche spuntare il colletto di una blusa bianca è perfetto sotto al blazer con i pantaloni questa tutta la spiegazione vedete qua burda ci dà un consiglio a palloncino a campana se voi togliete a se elastico quindi l'elastico potete ottenere a quel punto una manica campana quindi che cadrà in questo modo quindi bella larga questo dipende chiaramente dai vostri gusti mi piacciono tutti in tutti e due i modi però io in questo momento nella mia vita non lo so mi piace di più questo modello a voi quale piace di più e passiamo alle felpe guardate che carine se pensate che la felpa non sia fashion ecco qui la risposta no può essere benissimo fashion dei volant che la impreziosiscono nelle maniche ed è cade dritta non è portabile per tutti i tipi di fisico per i tipi di fisico per esempio a clissidra pera non la consiglio non valorizzerà le vostre curve che sono messe in evidenza da una vita sottile che dovete mettere appunto in evidenza in questo caso io modificherei inserendo nel dietro io l'ho fatto con una maglia una camicia da uomo che ho trasformato una camicia da donna andatela a vedere se vi interessa mettendo degli elastici in questa parte qui di dietro in modo tale da stringere la vita e renderla più femminile qui invece abbiamo una classica felpa che rimane bella lunghetta e quella addirittura non hanno abbinato con una gonnellina in questo caso invece troviamo una maglietta che tagliata a livello delle maniche e inserite dei volant seriti dei volant questa sicuramente la farò guardate che carina questa magliettina e come cambia lo stesso ripeto modello a seconda di come modifichiamo le parti di esso quindi magari tagliando le maniche mettendo di volant aumentando anche lo scollo perché se lo scollo non vi va bene così possiamo anche aumentarlo ma farlo a v se siete brave con la modellistica ecco qui i tre modelli la felpa con le maniche corte la felpa con i volant e la felpa con capuccio qui abbiamo le ruche a livello delle maniche sono semplici da confezionare poi c'è la somma la scuola di cucito abbastanza facile da realizzare non credete questa magliettina e bellina anche secondo me per l'estate realizzata molto in un tessuto molto leggero adesso siamo in autunno quindi è una mezza stagione diciamo possiamo realizzarla in un tessuto che non è troppo pesante ma neanche troppo leggero felpa che vi ho detto prima molto carina perché a questi questi rush abbelliscono le maniche poi abbiamo questa felpa con il cappuccio calda e avvolgente pratica da indossare ideale nei momenti relax e nelle occasioni più easy tutti abbiamo bisogno di una felpa con il cappuccio e questa alle carte in regola per diventare il tuo capo preferito seguendo gli step non sarà difficile confezionarla assolutamente guardate qui il disegno questa è tutta la spiegazione vedete vola anche sono abbastanza facile da realizzare fatemi sapere quale capo vi piacerebbe che io realizzassi altro consiglio da parte di burda luminosi e scintillanti in tinta unite o coloratissimi i bordi elastici regalano personalità anche i modelli più classici mini gonne quelle che io non posso indossare ragazze no perché sono un fisico a clessidra posso indossare solamente le gonne che arrivano al ginocchio al di sotto del ginocchio ma non c'è problema perché noi siamo sarte e anche una minigonna così la possiamo allungare e tutti possono indossare questo è un modello stile chanel come sapete io adoro lo stile chanel perché è intramontabile qui il tessuto è stato realizzato in bucle leggermente svasata un classico intramontabile abbinata a una blusa chic è perfetta anche per un'occasione importante per un look più casual indossata con una t-shirt bianca e un paio di sneakers anche in questo caso io e il mio fisico per esempio a clessidra non andrebbe bene con una donna così corta ma allungandola fino a farla arrivare alle ginocchia al di sotto le ginocchia è perfetta anche perché la linea svasata è la classica linea di gonna che sta bene a tutti i fisici qui abbiamo tutti i tre modelli delle gonne la gonna che abbiamo appena visto la donna al ginocchio e la gonna in jeans la stampa di pitone può piacere o non piacere ma comunque è un must have dell'autunno e inverno la grazia dalla lunghezza appena sopra il ginocchio si adatta anche le situazioni più formali quindi potete abbinarla e utilizzarla anche di pomeriggio oppure di sera quello che rende queste gonne originali molto carine sono i bottoni automatici attaccati nella parte centrale anche questa per esempio oltre avere gli automatici nella parte davanti anche attualissime rush verticali e tipiche in puntura doppie della confezione dei jeans bellissimi pantaloni molto stretti pratici e che sono perfetti per le prime giornate fredde e con piccole note fashion anche per le serate andiamo a vedere vedete qua le rush una rush tira l'altra in alto e in basso a destra a sinistra sono senza dubbio il dettaglio più in della stagione ci possiamo realizzare anche per andare a fare allenamento in palestra a seconda dei tessuti che utilizziamo e sono molto facili da realizzare perché hanno l'elastico in vita vedete hanno l'elastico in vita questi sono i modelli abbiamo i leggins a tre quarti il leggis in similpelle e i jeggings la versione più corta ideale per le prime giornate d'autunno lascia infatti vedere le gambe abbronzate sono veloci da confezionare e in jersey stampato con api farfalle o rondini sono stati realizzati in jersey di cotone i leggins in similpelle e con alternativa glam le rusce fitamente arricciate regalano al modello una nota briosa e fashion indossali con un paio di sandali attacco alto per slanciare la figura e mettere in evidenza l'interpretazione stilosa questo è il modello la lunghezza è di 90 centimetri anche in questo caso possiamo allungarlo arrivo a rimpicciolirla seconda delle nostre misure del fisico i jeggings sono i leggins si trasformano in jeggings basta scegliere un jersey effetto denim applicare le tasche posteriori ed eseguire un'impuntura decorativa sul centro davanti che sembra una cernella lampo perfetti con gli sneakers questa è tutta la spiegazione qua ci dà un consiglio per un tocco di originalità in più puoi realizzare le rusce con un nastro di colore diverso per esempio leggins neri e rusci in tinte neo neon o lurex oppure anche bianchi direi a me sarebbe venuto in mente un paio di leggins neri con le rusce bianche qua abbiamo il modello di una pochette my pochette da portare in borsetta veramente fantastico guardate c'è tutta la scuola di cucito lo volete che io vi faccia questa pochette dai dai la facciamo insieme è tutto spiegato vedete facilissima da realizzare bellina anche l'applicazione quindi potremmo vedere insieme anche come effettuare l'applicazione io non la effettua in questo modo l'applicazione la faccio in un altro modo alle mie applicazioni che avete visto nel video del mio copri quaderno e vi è piaciuta tantissimo lo potremmo rifare ditemi se siete interessate abbiamo terminato di vedere insieme burda giovane easy a me è piaciuto tantissimo questo numero fatemi sapere nei commenti se a voi è piaciuto se lo vorrete comprare che cosa vi piace di più e cosa vorreste che io vi realizzassi prima di ogni cosa io aspetto i vostri commenti sempre con tanta con tanta impazienza e con tanta felicità quando li ricevo sono sempre felicissima di trovare un vostro commento quindi commentate sempre commentate commentate iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella condividete i miei video nei vostri social io vi mando un grande bacio a sibiri e buon cucito ciao